Ciao amici dei Gustibus, ci troviamo qua per parlare delle differenze tra un metodo classico e un metodo Martinotti o Charmant. Sostanzialmente si traduce questo in una differenza di seconda fermentazione. Nel metodo classico viene effettuata direttamente nella bottiglia, mentre nel metodo Charmant si effettua in autoclave. Questo si traduce poi in una differenza di sensazioni gustolfattive, di complessità aromatica e gustativa. Un metodo Martinotti o Charmant sarà sempre più semplice con sentori primari, floreali e fruttati, mentre un metodo classico sarà più strutturato con sentori tostati, di pasticceria e una bollicina più complessa e importante.